Un caffè che vale espresso scende moca sale Eccoci pronti anche al caffè di oggi, vedete una sedia vuota ma le immagini che già ritraggono il nostro set vi stanno facendo scoprire quello che è il mio ospite di oggi. Di che cosa parliamo oggi? Parliamo di come nutrirsi per stare bene ma come nutrirsi anche per invecchiare bene la mia ospite Federica Almondo oltre ad essere una nutrizionista famosissima di fama davvero nazionale ed internazionale è una donna ricercatrice che ha messo in piedi una nuova iniziativa che si chiama Blue Zone dove con un coordinamento tecnico scientifico studia caso per caso quella che è la genetica che intanto ci appartiene cosa diventeremo da grandi o da più grandi, cosa c'è scritto nel nostro DNA quali saranno le malattie delle quali ci potremmo ammalare e come si può fare a fare medicina preventiva è un tema davvero di grandissimo interesse e che è la scienza che oggi c'è attorno al tema della chiaramente alimentazione ma anche le neuroscienze, tutto il lavoro che fanno i tecnici che studiano il rapporto con il movimento, con lo sport e il nostro corpo stanno realizzando. Quindi una puntata da non mancare dove vi prometto capiremo di più su come funziona il nostro corpo, su come conseguire abitudini sane che ci possono far vivere certamente più a lungo ma soprattutto più in forma. E allora sigla, andiamo a sentirci questa canzoncina del caffè e vi aspetto fra un po' in questo studio per parlare di questa tematica davvero così importante un caffè che vale espresso scende moca sale serve a farci avere quella marcia in più un caffè che vale senza esagerare serve a questa Italia per tenersi su un caffè che vale rito nazionale è un caffè che vale grazie a te eccoci buongiorno e benvenuti un nuovo caffè da servirvi oggi ed è davvero un caffè salutare oserei dire vi presento il mio ospite di oggi Federica Almondo bentrovata buongiorno a tutti bentrovata e Federica è una nutrizionista e molto di più quindi la presento in maniera come dire sintetica però poi vedrete attraverso il caffè quanto ad esempio la stessa Federica ha portato nel suo mestiere tutta una serie di concetti nuovi e quanto sta evolvendo anche questo approccio del nutrizionista nel rapporto col paziente che sta dall'altra parte. Tutti noi dovremmo essere più attenti evidentemente alla salute partiamo da qui perché oggi impareremo davvero tante cose e cercheremo di prenderci cura di noi è il caso di dire allora Federica proviamo a partire da qui cosa fai esattamente in che modo ti rapporti a quelli che sono i tuoi pazienti? Io sono una specialista in scienze dell'alimentazione quindi una nutrizionista quindi mi occupo di nutrizione e di alimentazione e la salute e il benessere delle persone è imprescindibile dall'alimentazione. Il mio approccio con i pazienti è il più possibile a 360 gradi perché non si può dire ad una persona cosa mangiare o quando mangiare semplicemente bisogna costruire un percorso nutrizionale terapeutico che sia il più possibile personalizzato e individualizzato per quella persona bisogna capire i bisogni anche dell'organismo di questa persona e anche i suoi bisogni psicologici e anche rapportarsi alla sua realtà quotidiana perché dare buoni consigli è semplice ma a volte è difficile seguirli. Tanti anni di esperienza poi un po' questa storia la racconteremo perché sapete che nel mio stile mi piace molto tornare indietro e capire cosa ci fa Federica in questo mondo perché l'ha scelto perché è diventata la sua vita. Prima di arrivare lì però una cosa che certamente chi sta a casa vorrà sapere ecco quali sono gli errori più comuni che si fanno quando un paziente arriva per la prima volta davanti a te si racconta ecco quali sono gli elementi che 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 incroci che in qualche modo sono comuni a tanti di noi gli errori più comuni che facciamo nell'approccio che abbiamo col cibo e poi in generale con la nostra salute. Bisognerebbe fare un distingo tra uomini e donne in questa in queste cose spessissimo le donne hanno un senso di colpa nei confronti del cibo perché le donne sono abituate ad avere un'attenzione quasi ossessiva per il cibo quindi spesso le donne così dicono è dovrei ma so che so quello che dovrei fare ma invece non non lo faccio perché è così ti spiegano le loro motivazioni. L'uomo di solito dà sempre la colpa a qualcosa di esterno diciamo non riesco per il lavoro per questo per l'altro e questa è la fondamentale differenza e gli errori più comuni che si fanno è fondamentalmente nel pensare che il cibo e l'alimentazione non faccia parte di una routine quotidiana importante quindi mangiamo quando abbiamo tempo e dormiamo anche quando abbiamo tempo tante volte e invece purtroppo noi siamo costruiti per avere degli stimoli in determinati momenti la colazione la colazione importante perché ci attiva il metabolismo fare colazione fondamentale molte persone non la fanno prendono un caffè veloce vanno magari pranziamo tardi soprattutto ceniamo tardi quando invece si sa che la cena dovrebbe essere una cena leggera e il più possibile presto allora il mio lavoro anche quello di cercare di mettere insieme questi due mondi perché se io lavoro fino alle 8 è chiaro che non posso dire un paziente deve mangiare alle 6 o alle 7 però si può cercare di costruire insieme qualcosa che sia adatto a quella persona bene vedete come stiamo entrando in questo mondo ecco ti chiedo subito visto che siamo bersagliati un po tutti almeno una volta ci abbiamo provato ormai scorriamo le pagine dei social e troviamo tutte queste idee di diete rivoluzionarie intanto si è creato anche un mondo che fa notizia penso ai vegani penso a chi decide in effetti di non avere più nessun rapporto col mondo animale con la carne eccetera e poi però tutte anche queste diete queste formule da una parte quella keto poi ce ne sono davvero così tante i beveroni e così via ti chiedo subito e ti provoco in questo l'idea che ti sei fatta rispetto a questo mondo è un primo suggerimento che arriva da una nutrizionista a chi sta da casa come dobbiamo guardare a queste diete che vengono presentate ormai anche automatizzate con le app con intelligenza artificiale quindi sarebbe tutto molto semplice come le dobbiamo guardare allora la prima cosa da dire è che spessissimo mi viene fatta questa domanda anche magari prima di venire alla visita ma lei che tipo di diete da che cosa consiglia la risposta è che non c'è una risposta nel senso che sono spesso tutte le diete compresa la che è un'ottima dieta ma non per tutti il problema che io devo capire chi ho davanti devo capire se quella dieta va bene per quella persona o sopra soprattutto io devo capire qual è la dieta più adatta per quella persona perché ogni individuo diverso da un altro è quello che va bene per me non va bene per mia sorella o per la mia amica e quindi è questo la diffidenza deve partire da qui che cosa va bene per me come faccio a capirlo solo un nutrizionista lo può dire e non un'app anche se l'app è molto importante potrebbe servire tutto il supporto tecnologico per esempio per seguire un paziente ecco una cosa che mi chiedo spesso e cosa tiene lontano mi ci metto dentro anch'io no cosa ci tiene lontani da un nutrizionista perché io continuo a dirmi dai prima o poi ci vado adesso voglio vedere quanto sono bravo da solo però prima o poi ci vado sì ma credo che sia una cosa molto psicologica nel senso che io dovrei recarmi da un nutrizionista e ho voglia di recarmi da un nutrizionista nel momento in cui ho voglia di mettermi in gioco e ho voglia di cambiare se sono nel momento giusto della mia vita in cui posso affrontare un cambiamento è il momento giusto di andare da un nutrizionista quando invece sono intrappolato in logiche di scuse di rimandi vuol dire che non è ancora il momento giusto dovremmo pensare più che altro al cambiamento e poi tutto attorno ci sono amici chi è più o meno esperto chi ha già fatto una dieta che continuano a consigliarti una delle loro soluzioni beveroni la dieta keto l'app rivoluzionaria insieme a tutte le trasmissioni televisive o le comunicazioni in genere nelle quali tutti noi siamo coinvolti che ci danno in qualche modo delle soluzioni ecco rispetto a tutte le diete che vanno di moda e anche agli amici che te ne consigliano almeno una come porsi e bisogna farsi la domanda molto semplice quella dieta è giusta per me perché ciò che è giusto per mia sorella o per la mia amica non è detto che sia giusto per me e per questo c'è bisogno di un nutrizionista tutte le diete possono essere potenzialmente delle diete valide come la dieta keto che è un'ottima dieta ma non va bene per tutti quindi il nutrizionista serve proprio questo a capire se qual è la soluzione e qual è il tipo di dieta o di percorso terapeutico nutrizionale adatto a me e non alla mia amica o a... Federica mi fai qualche esempio tangibile delle cose che scopri poi proprio dentro i percorsi che fanno vedere la grande differenza che ci può essere tra un soggetto e l'altro ad esempio potresti scoprire che a me il gelato non fa così male come al mio amico ecco fammi qualche esempio così anche a casa capiscono cosa vuol dire poi tradotto in abitudini che ogni dieta deve essere diversa in che senso e intanto bisognerebbe qui ci viene in aiuto le nuove scienze di frontiera della della nutrizione che sono la nutrigenetica e la nutrigenomica che sono perfettamente complementari la nutrigenetica si occupa appunto di capire come il mio corredo genetico personale influenza il modo per esempio di interagire con gli alimenti per cui alcuni alimenti a me fanno male ad altri non fanno male per esempio l'intolleranza genetica al lattosio molto l'esempio più semplice e dall'altro c'è la nutrigenomica la nutrigenomica invece è ciò che gli alimenti come gli alimenti influenzano il mio dna mettendo insieme l'espressione del mio dna dovrei dire perché non viene mai modificato mettendo insieme queste due cose si riesce a costruire un piano terapeutico individualizzato per la persona e poi c'è il movimento provo ad essere io la cavia io mi ripeto Piero con l'età che oggi hai non sei più un ragazzino devi contrastare almeno le giornate in cui stai un po' di più a casa cosa che ultimamente succede magari davanti al computer guardi il tuo contapassi e ti rendi conto che nelle giornate in cui vai in giro a trovare i clienti arrivi anche a 10 15 mila passi 8 10 chilometri quando sei a casa ahimè alla fine il contapassi ti dice 500 passi e quindi va da sé lo senti nelle gambe lo senti nella testa che hai consumato di meno e quindi mi sono comprato un tapirulano intanto dico almeno non ho la scusa delle giornate in cui piove o c'è burrasca e non posso andare a fare una camminata all'aria aperta ecco ti chiedo se comincio almeno a mettermi nella giusta direzione è sicuramente sull'ottima strada la camminata è un alleato indispensabile per mantenersi in forma e la camminata certo deve essere ad andatura sostenuta non deve essere una passeggiata però muoversi tutti i giorni è fa parte di una delle cose comuni alle cinque blues on del pianeta che senti sostenuta perdonami si apro cosa vuol dire che dall'altra parte ci ascoltano gente che come me alle prime armi sul tapirulano 6 7 sostenuta vuol dire no non è detto 6 7 vuol dire che io faccio fatica ma non troppa cioè si dice che bisogna fare il talk test se una persona passa vicino mi parla io devo essere in grado di rispondere senza fare e nello stesso tempo però se chiacchiero brillantemente vuol dire che non sto facendo abbastanza fatica e man mano che miglioro posso aumentare la velocità assolutamente sì il fine dell'allenamento sarebbe proprio quello torniamo a quello che stavi dicendo perdonami ho voluto però a beneficio di chi stava da casa capire e quindi camminata cos'altro cosa manca ancora la camminata però non è sufficiente soprattutto al giorno d'oggi perché i nostri anziani abbiamo visto che nei nostri anziani è diffusissima la sarcopenia la sarcopenia è la perdita eccessiva di massa muscolare e la perdita eccessiva di massa muscolare correlata tantissime malattie neurodegenerative malattie autoimmuni lo stesso tumore le infezioni quindi preservare una buona massa muscolare negli anni è proprio un segno di salute è molto importante e per questo accanto alla tua camminata il tuo tapirulano dovresti aggiungere un po di pesi magari un po di squat fatti a casa per rafforzare la parte appendicolare inferiore e un po di bicipiti e tricipiti con un manubrio preso anche così molto semplicemente in modo da fare un esercizio continuativo che preservi la nostra massa muscolare ricordiamoci che i nostri nonni zappavano la terra si muovevano sempre a piedi non prendevano la macchina quindi non avevano bisogno di andare in palestra noi purtroppo stiamo seduti tutto il giorno spesso al computer e quindi abbiamo bisogno di muovere il muscolo perché al nostro cervello deve arrivare proprio il messaggio che abbiamo bisogno del muscolo al caffè di oggi Federica Almondo nutrizionista ed esperta in scienza della dell'alimentazione che però è qui per raccontarci anche di un progetto rivoluzionario che fa parte di un percorso che lei ha fatto lungo la sua vita fra un po entriamo in blue zone e cerchiamo di capire cosa vuol dire un approccio salutistico con la dieta e come tutto questo mondo sta evolvendo quante cose in qualche modo ci promette a che fare con la promessa che possiamo invecchiare meglio prima di parlare di blue zone però sono curioso vorrei capire chi è Federica come è arrivata a fare questo mestiere perché quindi riavvolgiamo un po il nastro e cerchiamo di capire come sei entrata in questo mondo e come ci sei cresciuta dentro allora io in realtà mi laureo nei primi anni novanta in scienze biologiche perché io ero appassionata del corpo umano volevo capire tutto del porto del corpo umano e avrei e volevo fare la ricercatrice quindi faccio una tesi sperimentale nel laboratorio di microbiologia di parma poi nel frattempo mi innamoro di un milanese che abita vicino al sarafele comincio a conoscere anche il sarafele la questa nuova bellissima realtà mi trasferisco professionalmente a milano al sarafele come borsista ricercatrice però in questi primi anni capisco che non è la mia strada non è quello che volevo fare realmente bisogna cambiare idea ogni tanto avere anche il coraggio di farlo e siccome mi sono se ero sempre stata appassionata di nutrizione alimentazione mi ero interessata ovviamente a livello personale per la mia salute per quella dei miei cari ho deciso di fare l'esame per entrare nella scuola di specializzazione di scienze dell'alimentazione una volta entrata in specialità ho cominciato a frequentare come specializzanda il centro di dietologia obesità dell'ospedale san raffaele dove ho cominciato ad acquisire ovviamente pratica competenze eccetera eccetera però in questi quattro anni perché la scuola di specialità dura quattro anni nella mia vita personale sono successe tantissime cose mi sono sposata e sono rimasta incinta del primo bimbo e e qua mi ricordo di aver dato l'ultimo esame di specializzazione con una pancia di nove mesi credo che fosse l'otto luglio e io partorito il 15 con una maglietta sporca di gelato al cioccolato perché ero andata poco prima a fare il monitoraggio e quindi credo che per i miei professori sarebbe stato molto difficile bocciarmi perché dovesse stata molto tenera con questa pancione questa maglietta sporca comunque una volta specializzato ho cominciato a far parte del team del centro di dietologia obesità del san raffaele e ad aprire il mio studio privato in parallelo e poi dopo un po' di anni è arrivato il secondo bambino come dicevo prima forse l'esperienza della maternità per me è stata veramente totalizzante per cui ho deciso di prendermi una pausa e di così di dedicarmi ai miei bambini finisci no hai finito prima di entrare in blue zone mi rimane qualche curiosità certamente tante persone che tu hai incontrato lungo questo percorso adesso ci hai raccontato anche di questo momento collettivo anche in un ospedale così importante come il san raffaele di milano ma gli errori più più classici che che commettiamo nel nostro rapporto col cibo quali sono beh l'errore più classico è quello di pretendere troppo da noi stessi attività fisica tutti i giorni attività fisica incomincio via oppure sto dieta non mangio più nulla sono faccio dieta molto drastica e quindi pretendo troppo da me stesso qualcosa che io non riesco a sostenere nel tempo perché è al di sopra delle possibilità non solo mie ma di chiunque per esempio mangio un cioccolatino e dico vabbè la dieta è rotta ne mangio 10 si chiama legge del tutto nulla gli psicologi possono spiegarla molto meglio di me e quindi invece dobbiamo pensare che un cioccolatino ingrassa per un cioccolatino che 10 è ingrassa per 10 cioccolati e la mia vaschetta di gelato ho giurato che non lo compro più o lo compro episodicamente che inizia con la parte alta e poi pian piano vado giù e quando arriva a metà dico sai che c'è adesso la finisco esatto è proprio quello di cui parlavo esattamente attenzione allora le vaschette di gelato agli cioccolatini e un po insomma a queste cose che ci piacciono tanto dobbiamo trovare un modo da quello che già ci suggerisce la nutrizionista evidentemente di di darci delle regole di stare nelle regole poi ognuno può trovare la sua strategia e soprattutto conservare questo nel tempo vi ho detto di blue zone perché davvero federica ha messo a punto un sistema che ci promette di poter invecchiare bene che è un tema che non è solo individuale familiare davvero un tema del paese perché il nostro un paese bellissimo straordinario che grazie a dio devo dire e anche alla scienza e a persone come federica già comincia ad invecchiare meglio ma c'è tanto da fare cosa sì perché la medicina tradizionale c'è ci ha allungato la vita anche di molto però il problema è che non è sempre una vecchiaia bella perché spesso è appunto accompagnata da dolore malattia quindi la sfida non è intanto quella di aggiungere anni ma di aggiungere qualità di vita il progetto di blue zone è proprio questo quello di cercare di costruire sia un benessere a breve breve termine magari rispondendo a delle tematiche specifiche del momento come potrebbe essere dormire meglio perdere peso aumentare la libido toglierci dei dolori che ci affliggono da tanto tempo sia però nel contempo costruire un benessere a lungo termine attraverso un approccio olistico e attraverso un team multidisciplinare di altissimo profilo ecco qualcosa già l'hai detta mi ha mi hai incuriosito a volte a casa chi ci segue non sa esattamente cosa vuol dire invecchiare meglio cioè che aspettative possiamo avere e ti chiedo quali sono le domande e quali sono le risposte già anche i risultati che in una in un'età che che supera immagino i 50 e i 60 e magari va verso gli 80 perché no verso i 100 qual è la domanda che viene fatta che cosa vuole e che cosa significa invecchiare meglio invecchiare meglio significa avere la possibilità di vivere a pieno anche l'ultima parte della nostra vita in modo appagante avere gioia di vivere quindi non essere così costretto a sopportare dolori malattie quindi cercare la sfida della medicina anti aging è quella di cercare di allontanare il più possibile o di evitare l'insorgenza di tutte le malattie età correlate per esempio e quindi bisogna farlo costruendo un action plan che comprenda diverse ambiti l'ambito nutrizionale l'ambito nutraceutico che è molto importante il movimento naturale un'attività fisica che sia sostenibile sul lungo periodo e che ci aiuti quindi ad invecchiare bene e cose pratiche che ti chiede mediamente il tuo cliente magari che un po' avanti con l'età cioè che cosa vuole di più nella sua vita cosa cosa vuole che migliori cosa vuole che duri di più il senso di benessere il senso di benessere ci dà anche serenità quindi quando cominciamo ad essere afflitti da preoccupazione di carattere medico ma non solo ma anche appunto vediamo abbassarsi improvvisamente le nostre performance siamo preoccupati perché pensiamo alla vecchiaia come a qualcosa che ci toglie ci toglie ci toglie in realtà sì la vecchiaia è ovvio che toglie un processo naturale ma che si può supportare per cercare di invecchiare come i vecchietti delle blue zone le blue zone sono le cinque aree del pianeta a più alta longevità che non hanno però solo il più alto numero di centenari di ultra centenari ma hanno anche una qualità della vita pazzesca le persone si ammalano poco hanno una bassissima percentuale di malattie cardiovascolari di di cancro di malattie neurodegenerative come l'alzheimer stanno bene e quindi come aicaria che è una di queste isole felici si dice l'isola delle persone che si dimenticano di morire ecco noi dovremmo vivere senza pensare alla morte perché stiamo bene comunque accettiamo questo lieve declino ma deve essere un declino e non una sofferenza. Sulla dieta mediterranea invece che ricorre spesso viene citata proprio a proposito di stili di vita e anche di anziani che sono invecchiati nel modo giusto cosa pensi? La dieta mediterranea è la dieta che ad oggi ha le maggiori percentuali di successo sul lungo periodo il problema è che la dieta mediterranea nel immaginario comune è un bel piatto di pasta in realtà non è così le persone appunto delle blue zone che quasi tutti seguono una dieta simil mediterranea non non mangiano il piatto di spaghetti intanto mangiano alimenti integrali che è la cosa principale seguono un regime simil vegetariano la carne la mangiano ma occasionalmente non giornalmente mangiano tanti legumi tante tutti i prodotti freschi sono a chilometro zero sono vicini li coltivano loro comunque sono lì vicino quindi mantengono intatte tutte le proprietà nutritive e quindi è questo il concetto. Entriamo in questo blue zone che non è solo appunto uno studio ma diventa anche il nome di questo progetto nuovo a cui stai lavorando ecco se Piero viene da te non solo come nutrizionista ma veramente si appassiona a questa idea e alla filosofia che c'è dietro blue zone che cosa mi fate? Allora ai clienti di blue zone entra il concetto è quello che la persona dovrebbe conoscere e conoscersi per appunto costruire un successful aging si parte da delle fragilità genetiche che sono il nostro punto debole il punti su cui dobbiamo lavorare seriamente e un team di multidisciplinare di professionisti di altissimo profilo che appartengono a tante specialità diverse vengono coordinati da un case manager che si occupa singolarmente dalla persona e insieme si costruisce un percorso veramente TaylorMond fatto su misura per quella persona personalizzata. Senti mi stai dicendo che saprò che morirò presto o tardi? Allora ecco questo è un concetto molto importante nella genetica una volta fino a un po' di anni fa si pensava che la genetica potesse spiegare tutto in realtà non è la genetica che può spiegare tutto la genetica ci può dire dove siamo fragili come dicevo prima dove è più importante lavorare ma la medicina anti aging e la medicina attuale è una medicina basata sull'epigenetica l'epigenetica è tutto ciò che esternamente quindi il nostro stile di vita, la nutrizione, il movimento ma anche fattori negativi come l'inquinamento regolano il nostro DNA perché i nostri geni possono esprimersi in modo diversi possono esprimersi in modo buono diciamo così o in modo cattivo e il mio stile di vita dice a quei geni come comportarsi se bene o male. Ecco ad esempio se scoprite che sono a rischio di diabete come intervenite? Allora questo è uno delle... io per esempio sono a molto rischio di diabete la mia genetica è completamente sfavorevole ma per spiegarvi l'epigenetica vi dico un pochino come funziona intanto si dice che i geni influenzano a seconda del tipo di patologia dal 20 al 40% tutto il resto è stile di vita e ambiente quindi questo riporta nelle mie mani la possibilità di essere un attore consapevole della mia salute perché posso fare realmente qualcosa. Se io sono fortemente predisposto al diabete ma mi muovo regolarmente non mi abbuffo di dolci ma seguo una dieta sana magari a basso indice glicemico come sarebbe indicata in questo caso è molto probabile che io non sviluppi il diabete di tipo 2 stiamo parlando di quello ovviamente o magari lo sviluppo molto tardi nell'età. Se invece io non ho una predisposizione al diabete ma mangio McDonald's tutti i giorni e sto seduto tutto il giorno davanti alla tv è possibilissimo che io sviluppi il diabete di tipo 2. Federica anche qui ci sono luoghi comuni anche paure che si innescano man mano che diventiamo consapevoli e ci avviciniamo a queste cose allora ti faccio una domanda sempre in termini di curiosità perché immagino sia più complesso di come nell'immaginario collettivo è l'idea delle predisposizioni genetiche. Ad esempio se ho il papà diabetico ma la mamma invece no lo zio diabetico ma l'altra zia no. Mio nonno che ha avuto una certa patologia rispetto invece a mia nonna che non ce l'ha avuta. Come posso capire dove vado a collocarmi io? Allora l'unico modo serio sarebbe quello di fare una DNA test in questo modo. Quindi non basta dire siccome ho il papà diabetico devo stare attento. No basta perché comunque il diabete in particolare è una malattia multifattoriale familiare quindi io per esempio ho tutta la famiglia di mio padre col diabete quindi è altamente probabile che io sia una di quelle persone che tenderanno a sviluppare facilmente il diabete. Ok quindi pongo attenzione anche senza fare un'analisi del DNA in questo senso però diciamo che l'analisi del DNA mi dà un'idea più precisa su quali sono le problematiche e non c'è solo diabete ce ne sono tantissime. Però proprio a proposito del diabete una cosa così che da un uomo comune rispetto a queste tematiche quantomeno ho notato è che il diabete proprio lui negli ultimi anni è aumentato ce lo troviamo anche in famiglia che non avevano nessun... Per il problema dell'epigenetica di cui parlavo prima hai perfettamente ragione è proprio così. È lo stile di vita che anche se non sono predisposto al diabete mangiando male, muovendomi poco e dico le prime due cose ovviamente io posso sviluppare il diabete anche se non ho una predisposizione genetica per il diabete. Ok perché mi porta la malattia. Quindi il mio stile di vita è importantissimo perché io posso allontanare o addirittura evitare l'insorgenza di quella malattia. A proposito di mangiare bene oggi è una sfida che a volte sembra impossibile tra le scelte di quale ristorante trattoria ma anche al supermercato cosa prendere negli scaffali l'offerta che è aumentata in maniera incredibile le mode che a volte sono serie però non sempre poi le ritroviamo davvero nei prodotti. Penso ai prodotti biologici a parte vegani insomma tutte le varie variazioni che ci sono. Qualche consiglio diretto su come comportarsi al supermercato ma anche perché non è la scelta ad esempio di un ristorante che non è banale. Beh allora al supermercato bisognerebbe aver fatto un minimo di educazione alimentare. Basterebbe leggere le etichette. Le etichette sono molto importanti al giorno d'oggi ci dicono tutto. Sono complicate però Federica. Però per dire ti faccio un esempio molto semplice. Scelgo dei cereali per la colazione. Io leggo e vedo non so mais zucchero. Allora vuol dire che lo zucchero è il secondo alimento più abbondante in quella scatola. Quindi non sceglierò quel tipo di cereale. Cercherò un cereale dove lo zucchero è almeno al sesto posto. Quindi vedi questa non è un caso. In ordine. Non la sappiamo tutti. Lo so è per quello che lo detta. Infatti leggere l'etichetta non so se viene fatto. È in ordine decrescente. Sì sì hai ragione. Quando riusciremo a farglieli scrivere bene. Però già questa è un'indicazione. Quindi se lo zucchero lo vedo molto in fondo. Può dire che ce n'è meno. Bene. Rispetto a quello che è al secondo posto. Senti io adoro la marmellata col tè la mattina. Vabbè ogni tanto lo faccio anche per voi. Ho provato quella super light senza zucchero. Ma sa poco di marmellata. Alla fine ne ho scelta una che comunque è una certa quantità di zucchero. Guarda la marmellata in realtà se tu scegli la composta che non ha il termine marmellata ma è una semplicemente fatta senza l'aggiunta di zuccheri ti assicuro che è dolce come la marmellata e contiene infinitamente meno zuccheri semplici. Basta scegliere quella col termine composta. È buonissima. Questa è una buona indicazione. Io la mangio tutte le mattine anche a me piace molto. Bene 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 credo siamo in buona compagnia. Torniamo a Blue Zone e a questo percorso che io ho appena immaginato. La domanda era cosa mi fate? Come ognuna delle persone si comporta? Poi ti chiederò anche orientativamente cosa costa perché anche dall'altra parte magari qualcuno ha paura dice vabbè una cosa così chissà sarà roba da ricchi. E allora partiamo intanto da cosa che percorso viene fatto. Nel momento in cui la persona entra in Blue Zone viene affidata ad un case manager. Un esperto in medicina anti-aging che cercherà farà una visita internistica molto approfondita. È una visita piuttosto lunga. Prescriverà tutta una serie di esami che ci sono indispensabili per poter inquadrare la persona. Dopodiché si farà una riunione di team all'interno del quale si cercherà di capire qual è la problematica principale di quella persona. Se fosse per dire un problema squisitamente endocrinologico d'ora in poi il case manager diventerà l'endocrinologo. Se invece fosse una problematica ginecologica in caso di una donna sarà il ginecologo e la persona si interfaccerà sempre con quella persona da quel momento lì in poi. Tranne me perché la nutrizione è il più importante fattore epigenetico e quindi tutti passeranno da me sotto le mie grinfie perché impostare un corretto regime alimentare è fondamentale. Quindi avrà queste due prime visite e poi ci sarà un percorso che dura circa un anno dove ci si vede una volta ogni quattro mesi circa e appunto la persona verrà piano piano guidata tramite questi action plan tramite dei controlli anche medici ovviamente verso quel famoso successful aging e anche cercherà ma l'obiettivo è anche quello di togliere delle problematiche che il paziente ti porta in quel momento quelle di cui parlavamo prima dormo male voglio perdere peso quindi si affrontano le tematiche a breve termine ma nel contempo si costruisce anche tutto il successful aging. Quindi un vero e proprio percorso con dei tagliandi lungo questo che posso dire osare dire che diventa un percorso di consapevolezza? Assolutamente sì la persona fa veramente un cambiamento quando riesce a seguire questo percorso non è un percorso difficile da seguire è un percorso semplice perché si acquisisce come dicevi tu un'autoconsapevolezza che ti permette di capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato e quindi fai anche meno fatica dopo non sei più confuso non sai più questo mi farà bene o mi farà bene no lo sai perché ti è stato detto ti è stato spiegato ti è stato dimostrato. Federica una curiosità quanto Bluezone sta ragionando anche in termini di intelligenza artificiale nel senso io oggi vedo questo uso molto ossessivo dei dati no siamo in un mondo dove i dati sono diventati improvvisamente il vero petrolio perché chi lavora con i dati ha capito che attraverso i dati se messi nella giusta maniera e studiati nel modo giusto si scoprono delle cose delle tendenze ma anche i risultati ecco mi chiedo in un mondo come quello che tu ci stai raccontando quanto le case history dei clienti che passano in Bluezone in qualche modo diventano anche visto questa tua passione che mi raccontavi prima una grande operazione anche di ricerca. Assolutamente sì noi ci appoggiamo ad uno dei più prestigiosi così CRM proprio per questo motivo perché la multidisciplinarietà si può ottenere solamente con una condivisione continua e condividere devi avere un sistema di supporto che ti aiuta a condividere quindi noi condividiamo tutto quindi le nostre cartelle sono cartelle condivise ogni professionista in Bluezone che si occupa di quella persona avrà la cartella condivisa io in ogni momento posso capire che cosa sta succedendo con la persona non solo poi svilupperemo con il tempo anche un supporto per il paziente in modo da avere un contatto diretto con questo paziente. L'intelligenza artificiale ci può aiutare proprio in questo in questo senso nell'analisi dei dati e anche nel per avere un contatto diretto con il paziente è importante non bisogna abusarmi non bisogna delegare all'intelligenza artificiale. Insieme a Federica Almondo nutrizionista specializzata in scienze dell'alimentazione ma anche fondatrice e creatrice di questa nuova struttura e azienda che pensa e ragiona in termini davvero no di salute per la qualità dell'invecchiamento. Una cosa che riguarda tanti di noi in termini di prospettiva certamente è probabilmente una delle sfide più grandi che c'è nel mondo salutistico. Adesso andiamo ad omaggiare il nostro sponsor e coglierò l'occasione appena rientriamo sono solo 30 secondi di chiedere a Federica ecco il caffè come si pone dentro dentro e come una nutrizionista ad esempio si dialoga con il caffè che è l'ingrediente centrale non solo in termini metaforici anche perché proprio il nostro sponsor è un grande produttore distributore di caffè all'italiana. Bene ringrazio Umberto Gonnella 101 caffè questi imprenditori in tutta Italia che servono ogni giorno un caffè diverso grazie proprio a questa formula in franchising che oltretutto sta andando in tutto il mondo a rimarcare l'idea che il caffè all'italiana è davvero un'altra cosa. Ecco intanto ti chiedo Federica il tuo rapporto col caffè a me il caffè piace moltissimo io alla mattina prendo sempre il caffè uno due caffè ne prenderei molti di più però bisogna dire che più di tre caffè al giorno sarebbe meglio non prenderli. In realtà anche geneticamente è possibile determinare anche questa cosa perché ci sono metabolizzatori lenti e metabolizzatori veloci del caffè quindi chi riesce a smaltirlo diciamo così più velocemente può concedersi qualche tazzina in più. Chi invece è classico quello che prende il caffè non dorme sarebbe meglio non andare oltre le tre tazzine di caffè al giorno. Una grande diatriba che diventa quasi scuola di pensiero soprattutto in un paese come l'Italia che ama tanto questa bevanda è il caffè con zucchero senza in molti mi dicono Piero fallo per 15 giorni rinuncia lo zucchero vedrai che scoprirai il sapore vero del caffè e starai più in forma. Io dico che lo zucchero non dovrebbe essere aggiunto al caffè non solo per una questione di gusto ma perché se noi provi a pensare che lo zucchero che ci serve durante tutto il giorno sarebbero 5 cucchiaini piccoli. 5 solo 5 esatto e lo zucchero si trova dentro tante altre alimenti che noi mangiamo quindi non bisognerebbe aggiungerlo al caffè perché fa male e pensiamo a chi prende 5 6 caffè al giorno quindi esagera sicuramente anche con lo zucchero lo zucchero fa male. Se proprio non ci riusciamo anche qui c'è tutta una narrazione canna, dolcificante. Allora lo zucchero di canna e lo zucchero normale fondamentalmente sull'impatto glicemico non c'è nessuna differenza fondamentalmente quindi uno può utilizzare quello che vuole. Per quanto riguarda il dolcificante io lo utilizzo è sempre la regola del buon senso è chiaro che se io prendo 12 caffè al giorno e in ognuno metto 5 gocce di dolcificante o 5 bustine di dolcificante non va bene se prendo 3 caffè al giorno e metto qualche goccina di dolcificante non succede nulla. Qualche anno fa lo cito perché vabbè è un personaggio pubblico ma mi colpì questa cosa perché a parte tutte le domande sulla storia familiare sto parlando in questo caso cito Santo Versace che intervistai anni fa alla fine gli feci un complimento dicendo Santo ma come fai a stare così in forma? E lui mi disse la mia regola è colazione da re, pranzo da principe e cena da pezzente e questa cosa ogni tanto quando provo a farmi del bene me la ricordo non tanto perché me l'ha detta Santo ma perché vedevo in Santo una forma davvero invidiabile. E' una delle regole delle cinque blue zone è proprio così cioè noi dobbiamo alla mattina mangiare bene mangiare anche delle proteine quindi non so aggiungere per dire delle noci della ricotta al nostro alla nostra colazione quindi fare una bella colazione abbondante pranzare alla cena dovrebbe essere veramente leggera e seguire proprio il nostro metabolismo i nostri ritmi circadiani. Il problema del giorno d'oggi è che spesso la cena è la cena in famiglia l'unico pasto sociale quindi diventa difficile per le persone seguire questo consiglio soprattutto per questo motivo. Ecco chi per mestiere perché questa cosa mi coinvolge a volte molti imprenditori mi dicono Piero è la cena o il pranzo d'affari per me diventa un match insostituibile come faccio a negarmi il vino se c'ho un ospite di fronte magari sto per chiudere un contratto e quindi per queste persone qui il consiglio per chi è sottoposto per via del lavoro a pranzi e cene di lavoro che cosa consigli? Quale può essere il comportamento ideale? Allora le pranzi e i cene di lavoro se sono fatte per dire in un ristorante non è particolarmente complicato perché le scelte a ristorante si possono fare ormai i ristoranti danno tante possibilità quindi riesco a trovare quasi sempre la cosa giusta e mi posso anche concedere mezzo bicchiere di vino tutte le sere perché nelle blue zone il vino è compreso Buona notizia Moderato mi raccomando e no non posso evitare tutta la settimana e farmi 14 bicchieri il sabato Ok quindi il mezzo bicchiere in un pasto si può? Assolutamente anche un bicchiere a pasto cioè durante un pasto della giornata si può Per quanto riguarda le scelte io consiglio sempre soprattutto se è una cena da fare o una cena di lavoro di rimanere lucidi quindi fare scelte leggere Prediligere il pesce alla carne che è molto più leggero più digeribile prendere magari un antipasto e un secondo non per forza il primo piatto che la sera da un grosso stimolo insulinico ancora di più che durante il pranzo Quindi l'insulina è un ormone infiammante è un ormone che ci salva la vita tutti i giorni ma non lo fa gratis quindi ci infiamma e ci immobilizza il grasso corporeo cioè dice al grasso corporeo stai fermo lì dove sei Quindi alla sera l'indice lo stimolo insulinico dovrebbe essere basso quindi pochi dolci pochi carboidrati Federica ha un altro grande dubbio ma più che dubbio un'altra sfida incredibile è il fatto che ad esempio io sono abituato in qualche modo a dormire a mezzanotte vado lungo la sera e quindi anche quando provo ad avere una cena da pezzente come dice l'amico santo e quindi a mangiare davvero poco a cena lo spazio che mi separa spesso dal momento in cui mi addormento diventa una sfida incredibile Perché è molto facile che se ho cenato alle 19 e magari alle 21 alle 22 davanti alla tv mi viene voglia di andare a prendere che ne so un goccio di grappa piuttosto che a quell'ora diventa pesante cose di questo tipo In realtà è vera questa cosa è un po' è questione di abitudine fare un piccolo spuntino però è vero che capita di avere fame prima di andare a letto il consiglio è quello di cercare alimenti che non stimolino l'insulina quindi la grappa I biscotti sono zuccheri quindi no però si può prendere per esempio la frutta secca la frutta secca è l'ideale per esempio ma anche se è anche un frutto anche se è uno zucchero anche quello però è uno zucchero buono diciamo così anche uno yogurt per dire però la frutta secca è lo spezza fame ideale E invece ecco l'ho citato ma credo stia diventando un po' un'epidemia lo sento in tanti amici imprenditori il rapporto col sonno no? Beh a parte ho sentito che è cambiato nella mia vita insomma col tempo è diventato un sonno meno profondo in particolare da se si hanno figli questa esperienza si fa io ho notato che dopo la prima figlia ho proprio cambiato completamente sono diventato più attento più sensibile E non l'ho più perso ecco se c'è questa correlazione se è capitata solo a me e che cosa si può fare per lavorare invece su un sonno più qualificato? E' verissimo questo capita a tutti chi ha figli il sonno dopo diventa un sonno molto più vigile si perde quel sonno profondo che hanno i ragazzi che riescono a dormire con una confusione pazzesca e questo dipende da molte cose ovviamente noi in Blue Zone abbiamo proprio una persona che si occupa anche di questo Perché può dipendere da tantissime cose essere l'ipervigilanza può essere in un certo senso domata e quindi si può migliorare di molto la qualità del sonno ci sono anche delle tecniche molto raffinate come l'agopuntura, l'ipnosi o anche la semplice supplementazione nutraceutica Ci sono dei nutraceutici che ci aiutano a controllare questa ipervigilanza che ci tiene sveglio e ci fa svegliare presto E l'altra domanda che avevo anticipato ecco l'idea di cosa costa affrontare percorsi del genere è una cosa solo per ricchi o invece a portata di mano ecco il rapporto tra servizi di questo tipo e appunto il costo? I servizi sono servizi tra virgolette costosi anche solo non so degli esami che devo fare sono esami che vanno fatti per fare un quadro generale Però la nostra sfida è quella di tenere un prezzo che sia accessibile a tutti e quindi ci stiamo proprio provando in modo che non sia come dici tu una cosa solo per ricchi Ci puoi dare un'idea di massima giusto per chi ci ascolta giusto per capire un range Un range diciamo tra i 1500 e i 2500 euro Per tutto il percorso Quindi comunque farei un check davvero che non ho mai fatto nella mia vita e che mi consente di imparare da me, da chi sono, da come mi comporto e magari ottenere anche una serie di consigli utili a capire verso quali malattie potrei andare e come fare a contrastarle Perché qui stiamo parlando appunto non solo di migliorare il proprio peso, ad esempio la propria estetica ma proprio di come invecchiare meglio Ed è una cosa che si fa una volta nella vita, ok? Quindi non lo devo rifare tutti gli anni Un'altra cosa che mi incuriosisce perché il caffè che vale prova a trasferire valore, a far capire che in ogni momento della vita possono partire nuove sfide Allora avrete notato che qui parliamo di un professionista, Federica Almondo, che già faceva molto bene la professionista, aveva studiato nel modo giusto, aveva fatto le ricerche Che era entrata nello staff di questo ospedale straordinario che è il San Raffaele, ma questa Federica che adesso ci racconta Blue Zone io la vedo un po' anche come imprenditrice Allora la curiosità è come fai a diventare da professionista, che già non è poco, a imprenditrice Diciamo che nella mia formazione il diploma post-universitario che più mi ha cambiato e mi ha portato dove sono ora è stato il corso in medicina rigenerativa e anti-aging di Ammia All'interno del quale ho condiviso tutto, condiviso la visione, come dicevo prima, questo approccio preventivo E quindi ho subito cercato di realizzare un centro anti-aging all'intorno dell'ambulatorio dove stavo lavorando in quel momento e dove mi occupavo di nutrizione Poi per una serie di motivazioni non è andato a buon fine, il progetto non è decollato e ne ho parlato in famiglia, ho condiviso questa cosa Mio marito, che erano anni che si occupava appunto di start-up e di innovazione, senza dirmi niente ha cominciato a fare uno studio del centro anti-aging Vedendo che la stragrande maggioranza erano tutti focalizzati sull'aspetto dell'estetica E quindi mi ha proposto di fare insieme questa nuova avventura, di aprire insieme questo centro In modo da sviluppare tutte queste conoscenze, queste competenze che io avevo e di metterle a disposizione di tutti Il momento più bello è stato quando ho dovuto formare lo staff Perché io in questo corso ho conosciuto persone straordinarie che non sono solo professionisti di altissimo livello Ma con cui condivido proprio anche i valori della vita quotidiana Quindi quando io ho cominciato a fare il giro di telefonate e vedere l'entusiasmo con cui queste persone mi hanno risposto E hanno accettato il nostro progetto, hanno abbracciato il nostro progetto È stato bellissimo, mi ha dato ancora più forza e più coraggio per andare fino in fondo Vedete come la vita può prendere pieghe di volta in volta diverse Se a volte la risorsa ce l'hai a casa e non lo sai, questo vale per la moglie ma anche per il marito Quando si trovano dei match nuovi, quando si guarda in maniera più profonda le cose Può succedere qualcosa E questo che ispira, ed è l'ultima riflessione che ti chiedo di fare Federica Il caffè che vale è anche Italia Vale Italia Vale vuole diventare davvero un network di imprese, di professionisti e imprenditori in tutta Italia Che si comincino a parlare Il caffè diventerà uno degli strumenti per agevolare questa cosa ma non sarà solo il caffè Quindi professionisti che portano valore ad altri professionisti, che scambiano valore Ad esempio se non avete la fortuna come Federica di avere un uomo attento alle nuove start-up All'evoluzione che un mestiere può avere Potete cercare proprio in Italia Vale quel professionista Perché stiamo cercando le migliori risorse italiane da mettere a disposizione degli imprenditori Che parteciperanno a questo progetto Ecco l'ultima domanda va proprio in questa direzione perché mi ha colpito la tua meraviglia di interfacciarti Quanto conta in questa fase che stiamo vivendo come paese ma anche direi come dinamica mondiale Cominciare a ragionare non più da soli ma insieme ad altri, fare rete vera È fondamentale Io ho sempre cercato la collaborazione e la multidisciplinarietà perché trovo che sia l'unico approccio possibile E coinvolgere le persone, altre persone con cui ovviamente ti trovi, di cui hai fiducia Ti apre nuove prospettive Io ho iniziato avendo un'idea che l'idea è stata plasmata anche da altri professionisti Come il nostro direttore scientifico, il dottor Paolo Mariconti Che è una persona straordinaria e che ci ha aiutato a migliorare E a dare un'impronta ancora più scientifica e unica al centro Insieme anche al dottor Golonia, il nostro direttore sanitario Una persona incredibilmente competente Che è uno stimolo continuo Se uno si fissa su se stesso avrà sempre le solite cose Se invece tu guardi ai professionisti che possono collaborare con te Ti danno idee e anche però voglia di fare Perché è anche più stimolante insomma, non fare sempre le stesse cose Finisce qui il caffè di oggi Io ringrazio davvero Federica Almondo Perché ci ha aperto uno sguardo in un mondo straordinario Che ci riguarda tutti Il tema di invecchiare nel modo giusto In un paese che sappiamo andare in questa direzione E questa però è anche una fortuna, una conquista di questo nostro paese Allora Blue Zone è un po' la soluzione, l'idea centrale che oggi vi abbiamo raccontato Che può darvi una mano a capire come invecchiare meglio Un diritto davvero di tutti Io ringrazio Federica e ci facciamo una promessa Che magari da qui a qualche mese un altro caffè Magari questa volta provando anche a sentire chi sta dall'altra parte Qualche chiesistori per vedere le reazioni Gli ambassador sono la forza delle persone È stato anche questa cosa che mi ha dato forza Bene, se vi piace questo caffè condividetelo Fruitilo in tutte le modalità che poi ogni giorno vi racconto E che vedete scritte anche nei nostri specchietti Negli spot che passano Quindi modalità podcast Mentre guidate, tornate a casa la sera A qualunque ora del giorno e della notte Perché il caffè vuole essere anche moderno, multimediale Nelle tv regionali che sempre più si stanno unendo al network Stiamo avendo un grande successo di ascolti Ad esempio nelle prime tv che si sono unite alla famiglia Che veicola il progetto In Calabria la C, ringrazio l'editore E Puglia e Basilicata, TRM Network Stiamo per partire con l'Abruzzo E poi abbiamo trattative aperte in tutte le regioni italiane Affinché il caffè possa arrivarvi a casa nel modo più semplice e facile Grazie ancora Federica Grazie a tutti Un caffè che vale Espresso scende moca sale Serve a farci avere quella marcia in più Un caffè che vale Senza esagerare Serve a questa Italia per tenersi su Un caffè che vale Rito nazionale È un caffè che vale grazie a te Grazie a tutti